Questo è il ritmo di vita dell'uomo moderno. Affari, notizie allarmanti, impegni urgenti, esigenze di velocità. Chi potrebbe ancora pensare di viaggiare a cavalli? Ballare il minuetto, attendere un mese per avere un vestito, cose lunghe, noiose, faticose e anacronistiche. Un nuovo sistema industriale basato su inchieste e statistiche permette a chiunque in 5 minuti di acquistare un abito di classe. Nel sistema FACIS le misure fondamentali sono altezza, torace, cintura. Le altezze sono fino a 1,68, 1,76, 1,84. A parità di altezze di torace possono corrispondere diverse misure di cintura. Per esempio, due persone con semi torace di centimetri 50 possono avere una la semicintura di 42 e l'altra di 50. La differenza che ne risulta si chiama DROP. Da queste misure sono derivate 5 conformazioni. Snello, normale, mezzo forte, forte e panciuto. Per ogni conformazione sono disponibili 7, 9, 9, 7, 8 taglie che sommate tra loro e moltiplicate per le tre altezze danno 120 taglie per vestire ogni uomo. E qualunque cosa voi facciate, il vostro lavoro, il sentimento, lo sport preferito, qualunque siano i vostri interessi artistici rivolti al passato o all'avvenire, la Facis vi permette al presente di vestire con distinzione, risparmiando tempo e spesa. Ricordate l'uomo che corre contento, è il marchio Facis, la più grande casa italiana di confezioni.